Il mio nascondiglio sotterraneo è esattamente qui. Non mi resta altro che afferrare la mia potentissima bomba e conquistare il mondo. Che cosa? Qualche vabbè. Ho costruito una casa sopra la mia base segreta. Buongiorno, signore. Posso esserle d'aiuto? Salve, sono Mer... No, è Melly. Sono un fotografo itinerante e mi piacerebbe farle un fotoritratto. Se vuole dare un'occhiata al mio portofolio. Certo che voglio. Molto originale. Com'è carino. Interessante. Si vede che all'occhio di un artista... Ho deciso. Devo assolutamente fare un fotoritratto di tutta la famiglia. Bella. Aspetti qui mentre chiamo all'appello la famigliola. Il mio germe della macchina fotografica. Ecco, restate in posa in attesa degli altri scienziati della vostra famiglia. Speriamo che non arrivino. Adesso vado a cercare la cantina. Chi è questo tipo con la calzamaglia rossa? È il signore che ci farà la foto. La foto. Io non voglio che mi facciano la foto. La macchina fotografica ti ruba l'anima. Bene, adesso facciamo un bel sorriso. Un momento. Ho dimenticato di prendere i miei amiconi. Ecco. Nella foto non possono mancare il potentissimo Walkerman. E quella povera mezza calzetta di Man Ray. Prendi questo, Man Ray. Sei più stupido di un criceto. Mi arrendo. Sei troppo forte per me, Waterman. Non potrei mai batterti. Io non parlo con... Man Ray non parla così. Aio. Smettila, Waterman. Sei un cattivaccio. Ti faccio vedere io qual è la realtà. Strescia il mio cospetto brutto, Verme. Mi fai così paura che non riesco a guardarci. Attento a non rovinare quella mezza calzetta di Man Ray. Non ce l'ha nessuno perché nessuno lo vuole. Impossibile. Avevo un fan club tutto mio. Mi serve una camera oscura per sviluppare le foto. La camera più oscura della nostra casa è la cantina. Quasi, quasi, mi manca il carcere. Ma questo non è il mio nascondiglio. Deve essere ancora più giù. Deve salire subito. Di sopra stanno aspettando che lei faccia la fotografia di famiglia. Cosa? Prima di occuparmi del fotoritratto, devo... Devo seppellire i tuoi giocattoli nel sottasuolo. Perché? Ho i miei motivi. Ok, mi ha convinto. Faccia pure. Mi metto subito al lavoro. Verme ha detto di restare in fosa. Insomma, non ho tutto il giorno, lo sa. No, a dire la verità ce l'ho. C'è spazio da qui. Faccio io. Dov'è andato a finire? Ragazzo! Eccomi qui! Sì, il mio nascondiglio è tutto esattamente come l'ho lasciato. Chi direi? Ci sei ancora? Quando ti ho detto di restare qui, mi hai preso proprio in parola. MIA MIA BOMBA Ehi... geschik Bomba! Sei qui? Bomba! Dai, vieni dal papa! Dai, vieni dal papa! Cosa sta cercando di bello? Cerco la bomba del giudizio universale. È rotonda ed è grande così, ed è potentissima. Oh, certo! Ci siamo! Ecco qui quello che stava cercando. È la mia bomba del giudizio universale. Che cosa ti hanno fatto? Non è una bomba. È il tavolino preferito di tutta la famiglia. Lo usiamo sempre quando dobbiamo spaccare le noci. Guardi. Fermo! Non farlo! Patrick, fa un bel sorriso. Uno, due, tre! Un bel colpo! Ops, è ancora intatta. Adesso rimedio.